Si spengono le luci della solidarietà, ma si accendono quelle della ricerca, grazie alla raccolta fondi insieme per Gaia, dove in soli 40 giorni sono stati raccolti oltre 27.000 euro. Un'iniziativa portata avanti da Roberto, babbo di Gaia, ragazza di 14 anni di Subbiano, affetta da CMT2A, una neuropatia rara. Adesso la cifra raccolta servirà per sostenere la ricerca dell'associazione Mito Fusina 2. Una vera e propria gara di solidarietà attraverso i social, con tante associazioni, commercianti, ma anche semplici cittadini, che hanno voluto sostenere Roberto e Gaia nella loro battaglia contro questa difficile malattia. Ed eccoci qua finalmente alla fine di questa lunga maratona insieme per Gaia. Volevo ringraziare veramente tutte le persone che hanno contribuito con le loro donazioni, tutte le associazioni che mi hanno aiutato, commercianti, tutti quanti veramente. Non avrei mai pensato di ottenere un risultato così grande. Si è sentito l'affetto da parte di tutti e questa è la cosa che veramente più importa. Grazie ancora di cuore, un salutone e un abbraccio da parte di Gaia.